Wesley Oates in clinica Paideia, in corso gli accertamenti al ginocchio. Jingle Spot Il Tribunale delle Romane, Rete Oro, Canale 18, tutti i venerdì sera. Reduce da un problema al collaterale del ginocchio, Wesley Oates si è recato in clinica Paideia alle 13.45. Si era fermato venerdì pomeriggio e non è stato convocato contro il Chievo. Ora proverà a stringere i denti per la trasferta di Udine. In questo momento sono in corso gli accertamenti strumentali per il difensore olandese. Il Tribunale Oneir. Sul canale Spreaker Audio Sport News ascolta tutti i giorni dalle 12 alle 13.30 la versione web radiofonica del Tribunale delle Romane. Conducono Guglielmo Timpano e Alessandro Solito. Scarica gratuitamente l'app Il Tribunale Oneir da Google Play e da Apple Store.